Mercoledì l'ufficializzazione del rapporto stretto dal sindaco Lucio Greco con l'avvocato Giuseppe D'Aleo, l'ex assessore della giunta a Fasulo, è stato nominato esperto del primo cittadino su questioni legali e su quelle che investono gli uffici di gabinetto del sindaco. Invece non è stato rinnovato il rapporto con l'ingegnere Pietro Inferrera, il professionista che si è occupato di pianificazione strategica e dei dossier più importanti sul piano dei progetti ha collaborato con Greco praticamente fin dal suo insediamento. Il rapporto è scaduto il 29 luglio e non è stato rinnovato. Lo stesso professionista spiega che non è più esperto del sindaco Lucio Greco. Il rapporto si è interrotto alla scadenza naturale. Inferrera ha più volte supportato Greco in tavoli tecnici e istituzionali occupandosi di portualità ma anche di strumenti strategici come l'accordo di programma e l'area di crisi. Negli scorsi mesi insieme al sindaco è stato sentito in audizione dalla Commissione Industria del Senato proprio sulle sorti dell'area di crisi. Il professionista spiega che non è più un ruolo che ricopre. Non ci sono certezze sulla possibilità che il rapporto venga rifatto anche in futuro. Per il momento, commenta Inferrera, non è nelle mie corde al momento quindi è proprio l'avvocato D'Aleo l'unico esperto incaricato da Greco mentre la conclusione del rapporto con Inferrera potrebbe aprire altre valutazioni. L'ingegnere infatti ha sostenuto l'attività del primo cittadino nell'arco di due anni durante i quali appunto ci sono stati tavoli istituzionali e tecnici molto importanti.